È un progetto che parte tra la Polizia di Stato e l'ANIA, che è l'Associazione delle Assicurazioni. Ovviamente abbiamo degli stessi obiettivi in riferimento alla sicurezza stradale. E attraverso questo nostro partenariato è stata data la possibilità di avere degli strumenti che in maniera automatica e veloce ci consentono di verificare se quel determinato veicolo è coperto da assicurazione ed è stato revisionato. Al contempo abbiamo altri strumenti tecnologici che ci hanno consentito di poter verificare rapidamente i tempi di guida e di riposo dell'autista professionale. Questo progetto è stato portato avanti e ci induce a considerare e approfondire queste tematiche perché sicuramente incidono sulla sicurezza stradale in maniera significativa.